Buongiorno e benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, venerdì 22 giugno. Vediamo quali sono i temi fondamentali sui giornali di quest'oggi. Sostanzialmente tutti quanti sono legati a due fondamentali temi, cioè l'uscita di Salvini contro la scorta di Saviano, una battuta secondo me infelice, poi ne parleremo dopo, e poi il caos europeo sui migranti, come lo ha definito il Corriere della Sera che forse ha fatto il titolo più asettico ma anche più rispondente alla verità. Il giornale si è divertito invece dicendo gli odiatori, ha ragione mettendo dentro Saviano, Vauro, Santoro e non mi ricordo chi sia il quarto che vorrebbero arrestare addirittura Salvini. Andiamo per ordine e partiamo dall'immigrazione perché è piuttosto corposo il principio quello che è successo. Sostanzialmente è successo che Salvini, come sapete, ieri dice che è inutile andare a un vertice europeo precotto da un accordo franco-tedesco e poi un accordo che a noi piace pari a zero, piace per niente. Quindi non ci andiamo. Ovviamente era una sparata non andare a un vertice perché i vertici si va e si può anche porre i veti come l'Italia può fare, cosa che probabilmente avrebbe fatto Conte. Nel frattempo dopo questa sparata avvengono, come tutti i giornali oggi segnalano in maniera molto chiara, due fatti di cronaca. Il primo è che Macron parla di lebra che si sta diffondendo in Europa e cioè quella dei sovranisti. Parola lebra ai sovranisti e populisti. Insomma è una cosa molto simile a quella del suo portavoce quando diceva che era vomitevole l'atteggiamento dell'Italia, vomitevole, lebra. Si dà un'idea schifosa di quello che stiamo facendo, anche se in questo caso non è esplicitato rispetto all'Italia, ma parla dei sovranisti. Quindi immagino ungheresi, polacchi, italiani, questi sono i sovranisti che ci sono, Orban e Salvini. Devo dire che è un atteggiamento tipicamente in questo caso da grandeur francese, noi siamo quelli bravi, poi quello che fanno loro famiglie, quello che loro fanno a Ventimiglia non è da sovranisti, per carità, non è populistico. Quello che fanno invece Orban e Salvini è assolutamente per lui, oltre che vomitevole, lebroso. Una cosa veramente brutta, trovo, anche l'immagine della lebra per chi ha un minimo di cultura letteraria è la cosa più tremenda che si possa immaginare. L'altra cosa che succede ieri, la seconda cosa che succede ieri è che la Merkel telefona dopo le uscite di Salvini, telefona a Conte, presidente del Consiglio italiano, e dice guarda che quella bozza la stracciamo, quella bozza preconfezionata al vertice europeo non vale, tutti i vertici hanno delle bozze preconfezionate, è troppo franco tedesca, aggiungo io, e quindi evidentemente se ne è resa conto, il rischio era non solo che l'Italia non andasse, ma che ci conesse un veto, come lo aveva esplicitato ieri Salvini, e poi dice alla fine del vertice era semplicemente un summary di tutte le cose di cui noi abbiamo parlato, quindi vale poco, niente. Pane Bianco oggi si esercita in un pezzo su Quelle della Sera in cui dice che i prezzi delle posizioni, anche quelle più dure e sovraniste, vengono pagate poi dai figli, e io dico però in realtà noi ormai siamo anche figli di qualcuno, cioè noi stiamo pagando, io ormai sono genitore, non sono più neanche figlio, ma abbiamo pagato le posizioni assurde, di spese assurde degli anni 70 e degli anni 80 che hanno indebitato l'Italia in modo tale per la quale oggi abbiamo una tassazione, un debito insostenibile, grazie al cavolo, si chiamano leg temporali per l'economia, quindi adesso io non me la prenderei tanto sulle decisioni dei sovranisti, me la prenderei più con quelle decisioni così condivise del consociativismo che piaceva a tutti negli anni 70 e 80. Chiusa la parentesi su Pane Bianco, ma andiamo avanti sui altri commenti di giornata. Sugli altri commenti di giornata si unisce, ed è il ponte che ci aiuta a unire immigrazione a Saviano, è un articolo come sempre dello strillone del Movimento 5 Stelle, strillone isterico qualche volta, cioè Travaglio. Oggi scrive una cosa incredibile, l'accordo stracciato del prossimo vertice del venerdì è il primo successo internazionale di Conte, io dico, ma Travaglio, ma com'è il primo successo internazionale di Conte? Ma tu pensi veramente che siamo tutti dei rincoglioniti? Cioè se c'è una cosa è la Merkel che chiama Conte, ma perché lo chiama Conte? Tra l'altro si deve far dare il numero di telefono, perché non sa neanche chi sia Conte ovviamente. Perché se lo deve far dare questo numero di telefono? Perché Salvini aveva fatto l'uscita il giorno prima, la posizione è quella di Salvini, semmai, che tu chiami Cazzare Verde e cui gli fai un mazzo così. Non il successo internazionale deriva dalla posizione di Salvini, non dalla posizione di Conte che è sconosciuta. E aggiungo, perché mi aiuta Gervasoni sul messaggero ad aggiungerle, ma saluti dalle Filippine, ciao dalle Filippine. L'altra cosa incredibile è che, come nota Gervasoni sul messaggero, il premier italiano Conte è appena tornato da un vertice bilaterale con Macron, vi ricorderete che non si doveva fare, si fa, non si fa, si fa, ci vado, non ci vado, mi si nota di più se non ci vado o se ci vado. Insomma, quel vertice non si doveva fare perché il portavoce del partito di Macron aveva detto che l'Italia aveva un atteggiamento vomitevole e avevano continuato a dire anche dall'Eliseo che l'Italia era cinica e noi non ci vogliamo andare. Poi c'è una telefonata di Macron a Conte, ci andiamo, Conte va all'Eliseo e dopo tre giorni che cosa dice l'Eliseo? Che noi siamo come la lebra, noi, in senso, i governi populisti come quello di Conte che fino a prova contraria è un governo populista, con leghisti e Movimento 5 Stelle secondo la razio complessiva dell'Europa. E allora, scusami, Travaglio e quelli come lui, ma come si fa a definire un successo internazionale quello di Conte, quello che è avvenuto? Un insuccesso, va a Parigi e ci considerano come la lebra e le telefonate della Merkel arrivano perché c'è Salvini che ha una posizione, no? È molto semplice, a me non mi saluti mai, scusami, ti saluto anche a te, però è passato il tuo nome. Io la trovo una storia stupenda, stupenda, il primo successo internazionale. E poi c'è la questione di Salvini sulle scorte e in particolare su quella di Saviano. Perché qui Salvini, secondo me, ha sbagliato? Perché il tema delle scorte, parliamoci chiaro, è un tema delicato, molto delicato, perché le scorte sulla carta devono essere date, e in questo c'è ragione, ovviamente Calabresi oggi che se ne occupa nella prima pagina della Repubblica, si danno alle persone che rischiano la vita e non è un'opzione politica. La devi accettare. E la scorta, come dice Calabresi, ed è vero, è una condanna, perché vivere con la scorta è una rottura di balle che non avete neanche l'idea. Chiaro? Il punto fondamentale, e questo è rivolto a tutti quanti i direttori dei giornali, ai conduttori televisivi che hanno le scorte, cari amici, spesso, non prendiamoci per il culo, le scorte sono diventati degli autisti. Chiaro? Possiamo dirlo? Possiamo dire che è l'autista pagato dallo Stato con l'auto dell'azienda? Perché così funziona, prendi l'auto del direttore o dell'azienda dove lavora il direttore e gli metti sopra la scorta, che poi è un poliziotto che guida la macchina, un carabiniere, un finanziere, magari c'è un altro di supporto. Ecco, su quelle scorte, amici miei, siccome ce ne saranno 200, 300, 400 in Italia, avere il coraggio, caro Cazzaro Verde, come ti chiama Salvini, come viene chiamato Salvini da travaglio e mi sembra piuttosto irriguardoso, ma caro Salvini, su quelle scorte io interverrei. Cioè, quanti di questi dirittori, ex Presidenti della Camera, ex Presidenti del Senato, ex Ministri, hanno davvero bisogno della scorta, che non se li fila più nessuno? Molto pochi. E siccome le scorte sono pagate da noi contribuenti, non riesco a capire per quale motivo su questi non si intervenga. Poi dopo tu trovi la scorta di Saviano. Saviano, come in un pezzo straordinario, oggi vi consiglio di leggere Ferrara, è il... gli sta sulle balle a Saviano, a Ferrara, a Saviano, che la metà di voi che mi sta scrivendo ora, se vi leggeste Ferrara, capireste quanto gli sta sulle balle. E poi, a differenza vostra, se mi posso permettere, è mia, Ferrara qualche volta scrive talmente bene che mi viene uno sturbo, perché è un pezzo di letteratura. Oggi sul foglio dice di Saviano, scrive molto male e per questo vende parecchio. E poi, ben tagliato per la promozione dell'ovvio. Questo è Saviano, ben tagliato per la promozione dell'ovvio. E poi ci sono tante altre fasi straordinarie. Ma dice giustamente Ferrara, ma come ti viene in mente di pensare di attaccare Saviano su una cosa su cui obiettivamente è la meno attaccabile di tutti. Cioè, Saviano, vi potrà stare sulle balle, ci sta sulle balle, come dice Ferrara, lo dice l'ovvio, è sempre quello che dice la frasetta giusta, il moralismo giusto, mette da una parte i buoni e dall'altro i cattivi. E i cattivi siamo sempre noi che pensiamo alle cose... Ma cavolo, è stato minacciato dai casalesi? Ha un rischio, ha una scorta vera, non un poliziotto o due poliziotti che lo portano in giro. Come ce l'aveva per esempio Magdi Cristiano Allan per la questione della fatva che aveva avuto dagli islamisti, misti? Beh, insomma, in questi contesti forse la scorta serve. Poi dopo non facciamone un caso internazionale. Ma insomma, su questo forse, per tutta l'antipatia che possiamo avere nei confronti di Saviano, sì, l'ho letto tutto Ferrara, cari amici, poi l'altra parte di Ferrara è una roba molto ovviamente antipatizzante nei confronti di Salvini che lui dice che fa dei proclami duceschi dal Ministero degli Interni. La cosa importante e interessante era l'atteggiamento diciamo equilibrato e molto ben scritto di Ferrara sul fatto che è del tutto sbagliato rendere ancora più eroico un ragazzotto che scrive molto male. Questo era il concetto. Anche se minacciato dai casalesi, quindi teniamogli questa scorta. Molto bello anche un'altra cosa che ricorda Ferrara quando Scaiola volle togliere la scorta alla Bocassini che indagava su Berlusconi e il Foglio disse ma come ti viene in mente? Beh, allora, come si chiama? Berlusconi rimise la scorta alla Bocassini. Allora questo è un atteggiamento da capo di Stato, da uomo di governo, cioè che riesci a scindere le tue antipatie personali dalla realtà diciamo dei fatti. E molti di voi dicono vive con l'attico New York grazie ai soldi che hanno fatto vostri, no? Perché gli avete comprato il libro di Gomorra e questo vive con i soldi in un attico New York, questo famoso mitico attico New York. Pensate un po' voi se devo difendere Saviano. Io lo considero insopportabile, però fatemi dire una cosa. A New York è senza scorta. Quando viene in Italia è con la scorta perché c'è un rischio vero di vita. Non siate così beceri perché possiamo diventare antipatizzanti nei confronti di Saviano, considerarlo orrendo nel suo pensiero, criticarlo fino alla morte, dire che fa schifo quello che lui pensa, ma se poi dopo pensiamo di criticare una persona attraverso le banalizzazioni come quello di togliere la scorta a uno che sinceramente è veramente minacciato, beh allora devo dire a New York non ce l'ha la scorta, quando viene in Italia c'ha la scorta, perché bisogna avere questa? Vabbè, comunque avete capito come la penso. Il Daily Mail, il giornale popolare inglese che io adoro perché sarebbe il giornale dei populisti inglesi, oggi su che cosa titola? 3,8 milioni di migranti hanno invaso la Gran Bretagna. Ma chi sono questi migranti? Noi europei. Perché noi europei dopo la Brexit hanno fatto un censimento, siamo sostanzialmente quasi 4 milioni, possiamo essere raggiunti, se viviamo in Inghilterra da almeno 5 anni, da altri 600 mila congiunti. Quindi il problema dei populisti inglesi dopo la Brexit è che c'è un'invasione di europei in Gran Bretagna. 4 milioni dice il Daily Mail più altri 600 mila che potranno arrivare. L'importante è che non abbiano commessi o reati in Gran Bretagna negli ultimi 5 anni. Ultima cosa è il condono fiscale, la pace fiscale, ce ne parla oggi Cinzia Meoni sul giornale, 3 aliquete, 25%, 10% e 6% secondo il contratto fatto da Lega e Movimento 5 Stelle, 3 aliquete per chiudere tutto il proprio passato con il fisco se scritto su una cartella esattoriale. Ovviamente questa roba qui avverrà secondo il progetto soltanto per le cartelle fino a 100 mila euro e dovrebbe portare nelle casse dello Stato 35 miliardi di euro e dovrebbe, dice Cinzia Meoni, avvenire entro il 2018 la legge che farà questa cosiddetta pace fiscale che dovrebbe valere per le cartelle fino al 2014. Tutte cose che dovremmo vedere fino a fine, le donne minacciate dal marito ex non hanno una scorta e poi vengono uccise, sì, sono uccise in Italia 108 persone, 108 donne all'anno. Probabilmente mettere una scorta a tutte le donne che dicono di essere minacciate sarebbe un po' un problema, capisco la logica, però la minaccia, se vi posso dire dei casalesi, forse è una minaccia da tenere in una certa considerazione. Non vi fate, come possiamo dire, sopraffare dall'odio e dall'insopportabile atteggiamento di una persona perché questo è bestiale, è bestiale, è semplicemente bestiale, ci può stare antipatico, possiamo non condividere nulla, ma avere un atteggiamento che non vede fatti soltanto perché una persona ha un atteggiamento insopportabile, secondo me è da ultra e non da persone che ragionano. Un grande saluto a tutti quanti voi e noi ci vediamo come sempre sulla zuppa di porro ogni mattina. Ciao!